Iniziamo la nostra prima lezione di laboratorio. Allora, vogliamo innanzitutto realizzare un account di posta elettronica e useremo ad esempio i servizi offerti dal sito di Libero. Quindi digitiamo nel nostro browser l'indirizzo www.libero.it Nella pagina principale di Libero dobbiamo cliccare sulla voce Registrati. Scriveremo nome e cognome 1 a indicare ad esempio la classe prima una lettera a indicare la sezione 2013 per quest'anno scolastico. Poi useremo tutti la stessa password bisogna ripetere la password mettiamo i nostri dati anagrafici Dichiamo sesso se siamo un privato azienda sono informazioni per il recupero della password che è così semplice che non avremo questo problema però sono obbligatorie indirizzo email alternativo che può essere anche fasull l'importante è che però non usiate proprio un indirizzo di libro altrimenti il sistema si accorge subito che la mail non esiste il cellulare è facoltativo se abbiamo inserito l'email le informazioni facoltative appunto possiamo trascurarle adesso dobbiamo superare il controllo di sicurezza inserendo la captcha in sostanza digitando quello che leggiamo nelle due figure i due numeri che leggiamo la captcha serve al server per assicurarsi che chi sta cercando di registrarsi non è un programma automatico ma è un essere umano bisogna rispondere sì alle richieste sui dati personali e poi clicchiamo su registrati abbiamo registrato la nostra mail questa pagina di riepilogo può essere conservata per ulteriori per successivi usi per esempio adesso me la salvo adesso sono pronto a entrare nella mia mail entro in libero se adesso sulla sinistra clicco immediatamente su mail andrò direttamente alla mia casella di posta elettronica simuliamo invece un login completo le volte successive alla nostra registrazione quindi non devo cliccare su registrati ma su entra inserisco l'email che ho appena creato inserisco la password clicchiamo infatti vedete ho sbagliato ok adesso ho effettuato l'accesso me ne accorgo perché in alto a destra trovo il mio nome e adesso posso cliccare su mail mi chiede di nuovo di inserire i dati finalmente accedo alla mia mail allora cliccando su posta arrivata leggo tutti i messaggi che mi giungono su questo account di posta proviamo a scrivere un messaggio proviamo a scrivere un messaggio allora nella casella A si inserisce l'indirizzo della persona a cui lo vogliamo inviare ad esempio proviamo a inviarla a noi stessi una caratteristica della posta elettronica è che possiamo inviare un messaggio a noi stessi molto utile se ci troviamo per esempio fuori casa e vogliamo spedirci dei materiali molto interessante anche la casella CC CC sta per copia carbone questa casella viene utilizzata quando noi vogliamo inviare un messaggio ad una persona e per conoscenza vogliamo inviarne una copia a una seconda persona attenzione io l'indirizzo della seconda persona l'avrei anche potuto mettere di seguito di seguito al primo indirizzo nella casella basta separare i due indirizzi per esempio con il punto e virgola la questione qual è? è che se faccio così vedremo poi negli esempi chi riceve l'email trova vede che il suo indirizzo è fra i destinatari della lettera quindi sa che la mail il contenuto della mail è rivolto direttamente anche a lui chi invece trova il suo indirizzo nella casella CC capirà immediatamente che la mail non è rivolta direttamente a lui ma gli è stata inviata in copia soltanto perché ne venisse a conoscenza quindi sa che per esempio non deve rispondere direttamente alle richieste eventuali presenti nella lettera ma ne deve soltanto prendere atto una cosa molto importante è l'oggetto della mail a cosa serve l'oggetto innanzitutto diciamo che una mail può essere spedita anche se non presenta l'oggetto è però una norma di buona educazione inserire sempre un oggetto nella mail perché immaginatevi una persona che controlla la propria posta e ha ricevuto decine di messaggi e si trova quindi di fronte all'imparazzo di dover leggere molte mail per poter verificare se il loro contenuto è importante o meno se noi scriviamo perdiamo un attimo di tempo e scrive una breve frase nella casella oggetto la persona che vede l'elenco dell'email già dall'elenco legge l'oggetto della mail e quindi senza bisogno di aprire il messaggio può già valutare se è un messaggio che richiede la sua urgente attenzione oppure è un messaggio che può essere letto con calma successivamente o addirittura essere cestinato torniamo un attimo agli indirizzi notate che c'è anche una casella che si può selezionare mostra ccn ccn è un'ulteriore finestra per inserire indirizzi mail sta per copia carbone nascosta allora parliamone brevemente diciamo che innanzitutto bisogna sapere che nell'intestazione di un'email che si riceve sono riportati tutti gli indirizzi dei destinatari della mail stessa quindi tutti gli indirizzi che troveremo che scriveremo nella casella o nella casella copia carbone verranno riportati nell'intestazione dell'email per cui ciascun destinatario può leggere gli indirizzi delle altre persone quindi quando noi inviamo un'email automaticamente stiamo diffondendo gli indirizzi email dei destinatari ora un qualche destinatario potrebbe non volere questo preferirebbe che il suo indirizzo email non fosse visibile agli altri destinatari in questo caso possiamo risolvere il problema scrivendolo il suo indirizzo in questa casella ogni indirizzo che scriviamo nella casella ccn non sarà visibile nell'intestazione della mail ricevuta va da sé che come nella casella anche in cc e in ccn possiamo aggiungere più indirizzi l'importante è tenerli separati ad esempio con un punto in virgola un'altra caratteristica ancora che possiamo impostare è la priorità alta in sostanza quando nell'elenco delle mail ricevute un messaggio inviato con priorità alta viene messo in evidenza per sollecitare l'attenzione del destinatario infine con questo spuntanto avviso di lettura facciamo in modo da richiedere al destinatario una conferma di avvenuta ricezione quando aprirà la mail vedremo fra poco che questo però non è un obbligo cioè il destinatario può decidere di non inviarci questo riscontro rifiutarsi di comunicarci l'avvenuta lettura della mail in questa finestra possiamo scrivere il corpo della nostra missiva elettronica infine abbiamo il pulsante allega file molto utile perché ci consente vedete se è comparsa la finestra che ci consente di cercare file all'interno della cartella documenti o nel disco o dei vari discchi presenti sul computer dicevo l'email consente è uno strumento che permette di trasferire molto facilmente file tramite internet seleziono i file che voglio spedire clicco su apri aspetto una certa quantità di tempo affinché il file venga caricato sul server di libro naturalmente il tempo che devo aspettare dipende dalla grandezza del file quando il file è stato opportunamente allegato alla mail lo troverò il suo nome lo troverò in questo elenco come esempio vi faccio vedere che io posso allegare più file notate che per ogni file allegato posso cambiare idea cliccando su rimuovi oppure cliccando su apri per controllare il contenuto del file e verificare che sia effettivamente il file che intendevo spedire adesso la mail è pronta posso decidere di salvarne una copia nella cartella bots e alla fine posso decidere di inviare il messaggio qua mi dice che questo indirizzo non è scritto correttamente in sostanza che non l'ho trovato infatti era 2013 naturalmente la correttezza dell'indirizzo l'ha individuata perché era un indirizzo di libero un indirizzo afferente a un altro server a un altro dominio non sarebbe stato verificato e quindi avremo soltanto successivamente avuto un messaggio che ci informava sull'impossibilità di inviare di recapitare il messaggio stesso facciamo una prova mettiamola ad esempio qua scrivo di nuovo l'indirizzo che ho messo in cc ma per esempio dimentico di mettere il punto quindi ho scritto volontariamente un indirizzo sbagliato vediamo che cosa succederà inviamo il messaggio come notate quindi non ho avuto messaggio di errore stavolta perché non era un indirizzo l'indirizzo errato non era un indirizzo di libero andiamo a verificare imposta arrivata ecco qua ecco qua inviato in modalità priorità alta il segno della graffetta indica che è un messaggio che contiene un allegato vediamo questo mail delivery service ecco qua qui è scritto in inglese che l'invio del messaggio all'indirizzo antonio inge tinit è fallito bad destination mailbox address indirizzo di posta sbagliato quindi notate che poiché non era un indirizzo appartenente al dominio di libero si è potuto accorgere dell'errore presente nell'indirizzo soltanto provando a inviarlo mentre se era un indirizzo di libero ci diceva subito che era un indirizzo errato notate che poiché era un messaggio che richiedevo conferma di lettura quando ho provato ad aprire anche la copia che ho inviato a me stesso vedo questo messaggio in cui mi si chiede di inviare una conferma di lettura potrei cliccare su annulla per leggere il messaggio senza confermare o ok per confermare l'avvenuta lettura posso leggere il messaggio e cliccando su questi link posso accedere ai file che mi sono spedito notate ecco l'effetto di aver dato la conferma di lettura al mettente arriverà nella mail un messaggio che dice che l'email principale è stata inviata è stata ricevuta e dice anche in che data e a che ora è stata letta notate come tutti i messaggi della casella A tutti gli indirizzi inseriti nella casella A e quelli inseriti nella casella CC sono visibili nell'intestazione del messaggio per cui io posso venire a conoscenza di indirizzi di altre persone presenti nell'elenco dei destinatari ma il messaggio l'indirizzo presente che abbiamo inserito nella casella CCN è invece risulta invisibile adesso che abbiamo un'ultima cosa quando ricevo un'email posso decidere di rispondere cliccando sul pulsante rispondi aspettiamo che il server ok cliccando sul messaggio sul pulsante rispondi notate che mi viene preparato immediatamente un'email con l'indirizzo corretto del destinatario che sarebbe immittente della lettera a cui rispondo si nota subito guardando l'oggetto che è una replica perché appare questa R prima del oggetto del messaggio originario viene riportato il messaggio originario e io posso dire quello che penso del messaggio che ho ricevuto e poi clicco si invia messaggio oltre a rispondi possiamo usare rispondi a tutti notate potete vedere da soli qual è la differenza è che il messaggio di risposta verrà inviato non solo a mettente ma tutte le persone che erano nell'elenco dei destinatari così la mia replica può essere vista da tutti da tutte le persone che hanno ricevuto lo stesso messaggio e quindi si può aprire una discussione tramite un'email si può aprire una discussione una sorta di chat un po' più lenta del normale tra più persone si può usare i messaggi di posto elettronico mi diventi rispondi rispondi tutto per creare un dialogo in più fasi infine invece di rispondere alla persona che ci ha inviato il messaggio o a tutti i destinatari posso usare il comando inoltre nel comando inoltre io creo comunque una risposta al messaggio nel comando inoltre scusate con il pulsante inoltre vedete che si crea di nuovo un'email che il cui corpo riporta il corpo del messaggio originario stavolta l'oggetto non è preceduto da una R madonna i stavolta gli allegati originari sono presenti anche nelle email di risposta e io decido così di inoltrarla a una terza persona è un sistema che viene utilizzato quando dicevo un'email e desidero che questa email sia visionata da un'altra persona che non era fra i destinatari originari scrivo l'indirizzo qua dentro e così via questo libretto serve per accedere alla rubrica la rubrica si aggiorna ogni volta che io invio un nuovo messaggio un messaggio a un nuovo destinatario quindi invece se ho un destinatario un indirizzo di un destinatario in rubrica non ho bisogno di scriverlo basta selezionarlo o selezionarli se sono più di uno e posso inviarlo esauriti il discorso su cosa possiamo fare con l'email adesso andiamo a costruire il nostro quaderno elettronico abbiamo bisogno di un sito e quindi dice www.mediafire.com scusate prima non ho fatto il logout e quindi si è aperto in un account che avevo creato ripetiamo l'operazione in modo che vediamo cosa effettivamente succede quando ci inseriamo la prima volta in questa piattaforma allora mediafire è un servizio di file sharing allora la prima cosa da fare la prima volta è registrarsi il sito è in inglese ma voi siete molto bravi per registrarsi bisogna fare il sign up ci viene proposto ci vengono proposti tre tipi di piani diversi il secondo e il terzo li scartiamo perché anche se non conosciamo l'inglese ci rendiamo immediatamente conto che sono servizi a pagamento e sceglieremo il free notate che il free propone uno spazio di 10 giga il pro 100 giga e poi abbiamo il premium da un terabyte spazio di tutto rispetto ma che come potete notare vi costa 50 dollari al mese circa 30 euro al mese quindi diciamo andrebbe leggermente evitato allora clicchiamo sul pulsante get start tieniti pronto e ci prendiamo il nostro bell'account gratuito first name non mi ricordo mai se è un nome o il cognome ma comunque dal nostro punto di vista non è che ce ne freghi tanto se mediafire confunderà nome e cognome l'email metteremo l'email che abbiamo registrato poc'anzi sul libro attenzione tutti i dati possono anche essere fasulli ma per evitare problemi successivamente l'email deve essere corretta scegliamo una nostra password confermiamo la password accettiamo i termini del servizio anche in questo caso abbiamo da affrontare l'interpretazione di una captcha speriamo bene ok dice che la captcha non è corretta vediamo un po' se stavolta indoviniamo dovrebbe essere chicken feed vediamo un po' ok siamo riusciti a registrarci allora comparirà sempre un messaggio qua questa finestra ci dà informazioni iniziali su come usarlo potete anche chiuderla dicevo qua ci avvertirà sempre che l'email va verificata non ci costa nulla perché andiamo sul libro andiamo a leggere la posta arrivata e vediamo che c'è un messaggio da mediafire che ci chiede di verificare l'indirizzo mail in questo messaggio basta cliccare su questo link se apre questa finestra si clicca su verifica e mail e siamo riusciti a registrare la nostra mail adesso la registrazione è completa è una novità dell'ultimo anno ma ne parliamo subito quello che vedete è lo spazio che mediafire vi mette a disposizione sul suo computer notate come è organizzato come se si trattasse appunto dello spazio sul nostro disco in una serie di cartelle è una novità di quest'anno nel senso che fino a poco tempo fa lo spazio era del tutto vuoto e quindi dovevamo organizzare noi le nostre cartelle invece già si crea una cartella documenti musica foto video e ci sono in alcuni casi addirittura degli esempi si usa come il computer di casa per aprire una cartella basta cliccare e vederne il contenuto oppure sulla sinistra questi segni indicano se una cartella contiene a sua volta altre cartelle la freccia verso destra mi indica che la cartella my files contiene a suo interno altre cartelle basta che clicco sulla freccia e vedo il contenuto dei my files già direttamente qua vedo già l'organizzazione sulla sinistra quando vedo la freccia verso il basso vuol dire che il contenuto della cartella è completamente la struttura di cartelle presente di sotto cartelle è completamente visibile quando vedo la freccia che va a destra vuol dire che non è visibile una cartella una cartella che alla sua sinistra non ha alcun simbolo vuol dire che non ha al suo interno altre cartelle ma solo file dicevamo come faccio a creare per esempio una mia cartella clicco ad esempio sul pulsante questo pulsante create folder oppure come mi dice il messaggino nella nuvoletta basta che premo il pulsante n scrivo il nome della cartella e clicco su create notate che c'è l'opposione make this folder e file drop e come potete leggere dalla descrizione se siete bravi file drop una cartella file drop ci porta dai servizi di file sharing ai servizi di clouding il clouding in sostanza è una un sistema che consente di cooperare trasmettere modificare in collaborazione file usando internet in sostanza leggete che avete bisogno di ricevere file di raccogliere file da amici o clienti rendete questa cartella un file drop e sarete in grado di inviare ad essi cioè agli amici o clienti un link un link ad una pagina speciale che essi potranno usare per inviare file direttamente nella vostra cartella quindi quando avete creato una cartella di tipo file drop questa cartella e solo questa cartella sarà visibile ai vostri amici nel senso che essi potranno inviarvi file documenti inserendoli direttamente all'interno di questa cartella speciale il resto dei vostri file è conservato rimane continua a rimanere privato e i file di cui farete l'upload quindi che caricherete sul server sono visibili soltanto a voi ok e abbiamo creato allora ci chiede ulteriormente conferma della nostra volontà di farlo diventare una cartella file drop qua possiamo mettere dare un nome personale qua l'ampiezza del simboletto e qua il pulsante copy link che consente di copiare link a questa cartella speciale per inviarla successivamente o meglio scusate il primo link serve per inserirelo all'interno della nostra di una nostra eventuale pagina web se abbiamo un sito e secondo invece quello che possiamo inviare ai nostri amici chiudiamo oltre a creare una cartella possiamo per esempio spostarla poi se vedete per trascinamento voglio mettere la cartella documenti nella cartella prova 2 tengo il tasto sinistro premuto e la trascino oppure clicco con il tasto destro e uso il comando move muovi e lui giustamente poi mi chiede in quale cartella lo voglio muovere spostare e poi clicco su move e ho riportato documenti nella sua posizione originaria una cartella può anche essere copiata e quindi invece di usare move userò copy mi ha creato una copia e lo indica mettendo un numero fra parentesi una cartella può essere rinominata rename e come vedete mi permette di modificarne il nome una cartella può essere eliminata cliccando su delete mi chiede conferma una cartella cliccando su create subfolder crea una cartella all'interno della cartella che in quel momento era selezionata come potete vedere come potete vedere come potete vedere come carico i file sulla mia cartella vado per esempio in documenti clicco su pulsante upload posso caricare i miei file dal mio computer posso caricare i miei file dal mio computer oppure da un sito web se ne conosco l'indirizzo naturalmente già ne ci servirà dal computer ok compare questa finestra clicco al centro di questa croce e compare la finestra che mi permette di guardare all'interno di sbirciare all'interno del mio computer seleziono la cartella che contiene il file che mi interessa seleziono i file clicco su apri il simbolo del bidone della spazzatura mi consente eventualmente di rimuovere i file attenzione di rimuovere i file dall'elenco perché ancora non è stato caricato sul sito posso proseguire aggiungere altri file cliccando su pulsante con il più e selezionare un altro file e così via scelti tutti i file che mi interessano clicco su begin upload inizia l'upload adesso devo aspettare un tempo che dipende dalla velocità della banda che ho a disposizione naturalmente dall'ampiezza dei file ritorno ai miei file adesso nella mia cartella vi do che ci sono dei file che per esempio posso direttamente visionare basta cliccarci sopra e me li fa vedere dopo che ho visto il file vedete ne posso fare il download e scaricarlo sul mio computer un'altra cosa che posso fare è la condivisione share condividiamo questo file condividere questo file significa semplicemente chiedere al computer di creare un link vedete i link sono due il primo che si usa da usare se vogliamo farlo solo visionare il secondo che dovremo inviare ai nostri amici se invece vogliamo permettergli di effettuarne i download questo link lo invieremo ai nostri amici in formato elettronico per esempio all'interno di un'email facciamo un esperimento copy link o clicchiamo su copy link oppure facciamo con l'indirizzo selezionato tasto destro copia per esempio vado al libero scrivo una lettera un messaggio lo invio a me stesso per semplicità prova invio link media file faccio ctrl v per esempio per incollarlo invio invio il messaggio il nostro amico andrà a controllare la sua email e troverà questo link in cui da cliccare per poter vedere i file per poter scaricare i file che abbiamo condiviso lo share si può fare di un solo file o di un'intera cartella tasto destro share e genero un link per permettere alle persone di visualizzare l'intera cartella di un'intera cartella notate questa cosa antipatica l'ultimo messaggio l'ho inviato senza oggetto notate come apparirà nell'elenco dei messaggi non c'è l'oggetto posso soltanto vedere chi è il mittente e soltanto in base a questo decidere se aprire o no il file quindi chi non invia non scrive l'oggetto della mail come vedete la mail arriva lo stesso però diciamo che è poco gentile nei confronti del destinatario perché il destinatario dovrà per forza aprire il messaggio per rendersi conto del fatto che era per esempio inutile del tutto inutile leggerlo in quel momento allora abbiamo visto quindi come vedete il messaggio è arrivato abbiamo il link clicchiamo conviene fare il scusate per renderlo più apprezzabile conviene fare il logout uscire così vi faccio vedere che cosa avete una persona che non è connessa a media file che non è registrata oppure comunque non ha le credenziale per accedere al nostro spazio ecco fatto anche se noi non siamo connessi a mediafire vedete c'è senap registro di ologin comunque grazie a quel link possiamo sbirciare nello spazio mediafire dei nostri amici ma soltanto limitatamente alle cartelle che hanno condiviso con noi naturalmente ho condiviso proprio una cartella vuota quindi all'interno mi dice che il proprietario di questa cartella non ha aggiunto file alla cartella stessa altrimenti avrei visto tutti i file che erano stato inseriti in essa grazie a tutti grazie a tutti Grazie.